Ciao ragazzi! Eccomi qua finalmente di nuovo con un video che sarà introduttivo, sarà l'introduzione per la nuova stagione di Fantasy Valley, chiamiamola così, chiamiamola nuova stagione. Dopo questi mesi estivi in cui c'è stata la parentesi, c'è stata una grossa parentesi lavorativa per me e soprattutto ho deciso di mandare il canale un po' in vacanza, anche perché appunto d'estate non c'è nessuno che guarda video, quindi ho deciso di mandarlo in vacanza, approfittarne. E in più c'è stato il trasloco perché siamo tornati dalla Spagna, siamo tornati in Italia e infatti se notate questa bellissima parete bianca alle mie spalle, sì, è il mio vecchio fantelaboratorio e soprattutto guardate chi c'è qui, guardate! Patata, Patatona, vieni qua Patatona che salutiamo i nostri amici, vieni, vieni su, vieni su, 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 un minuto, solo un minuto, guardate, chi c'è qui, c'è Mira, guarda Mira, ci sono gli amici, salutiamo, salutiamo gli amici, ciao amici, ciao! Guarda, 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 mira, guarda, mira, là devi guardare, mira, là devi guardare, mira, vabbè, c'è anche Mira finalmente, amore, amore, mio bellissimo amore, ci bacino, ci, vai, 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 non ti agita, vai, ecco, quindi sono tornata, felicissima di essere qui, per sempre, non lo so, vedremo, e nulla, io volevo fare questo video, non volevo che fosse un video tipo di mezz'ora, semplicemente volevo dirvi due cose, intanto volevo farmi vedere e dirvi che appunto ci sono, sono ancora qua, ho sempre la stessa faccia e che sono pronta a ripartire, quindi state sintonizzati perché stanno per arrivare un bel po' di nuovi video, di nuove cose. Dopodiché volevo parlare della grossa parentesi fantasbaluosa dell'anno scorso, ovvero il concorso La3, di solito quasi tutti quelli che mi seguono assiduamente mi seguono anche su Facebook, quindi già sapete tutto, siete preparati, però per chi non sapesse nulla di questa faccenda, che cos'è questo concorso di La3? Allora, praticamente il canale di Sky e del digitale La3 manda in onda nel suo palinsesto un programma che si chiama Tutorial, dove mostrano i tutorial di vari youtubers dei più disparati argomenti, quindi si va dall'arte, dalla cucina, alla ginnastica, c'è veramente di tutto. E l'anno scorso ho partecipato anch'io con alcuni miei video, poi loro hanno indetto un concorso tra tutti gli youtubers e chi vinceva avrebbe vinto la realizzazione insieme a loro, nei loro studi, di alcune puntate speciali che sarebbero andate in onda con la nuova stagione di Tutorial. La nuova stagione di Tutorial è partita e io ho vinto, grazie a voi ovviamente, quindi per questo ancora vi ringrazio con tutto il mio cuore, e ho avuto la possibilità di girare queste puntate speciali con loro a marzo, lo scorso marzo. Queste puntate sono andate in onda la settimana scorsa sul loro canale, che è il canale 134, e sono state mandate in onda sia il primo giorno che il secondo giorno tutte le repliche, a varie ore, a vari orari diversi. Ora, il programma è partito, quindi le mie puntate, quelle che ho girato per loro, non vengono più mandate in onda, però, però, io possiedo queste puntate perché me le hanno gentilmente concesse e le metterò, le caricherò qui sul canale, quindi volevo dirvi questo, che prossimamente caricherò sul canale le puntate che ho girato con la 3. Poi volevo ovviamente approfittarne per ringraziare pubblicamente tutta la redazione di La 3, perché è una redazione giovanissima, di ragazzi simpaticissimi, gentilissimi, io giuro ragazzi, per me è stata l'esperienza più bella che potessi immaginare, cioè è stata la perfezione, il massimo che potevo immaginare di poter vivere quel giorno si è realizzato, nel senso che andare lì nei loro studi, trovare un gruppo di persone che subito mi hanno messo a loro, a mio agio, mi hanno messo a mio agio, sono stati simpaticissimi, si rideva, si scherzava, sembrava di conoscersi da sempre, sono stati tutti estremamente carini, disponibili e molto professionali, mi hanno aiutato un sacco, è stato tutto bellissimo, quindi davvero per me è stata un'esperienza unica, unica davvero. E quindi io vi ringrazio tutti, in primis Rossana, che è stata dietro tutto il progetto, è sempre disponibilissima, gentile, Jacopo, e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato quel giorno alla realizzazione, quindi il regista, tutti i tecnici, la ragazza, la truccatrice, Elena, e grazie, perché quel giorno ero veramente presa malissimo, cioè sono arrivata proprio, che tra l'altro arrivavo dalla fiera di Bologna fino al giorno prima, quindi ero morta, e lei è riuscita a risuscitarmi in qualche modo, non so come, poverina, è stata bravissima, ci ha messo due ore solo per tirarmi via il gespuglio delle sopracciglia che avevo, e quindi tutto marito suo, se nel video appaio vagamente decente, e quindi, cioè, io ringrazio tutti, e soprattutto per il prodotto finito, quindi per le puntate girate e quelle che avete visto voi in televisione e che vedrete qui sul canale, ringrazio davvero, in maniera particolare, i montatori, perché, ragazzi, avete fatto un lavoro fantastico, credo che fosse una ragazza montatrice, e io ti ringrazio, comunque vi ringrazio tutti quelli che hanno avuto a che fare con questo, perché io so cosa significa montare video come quelli che faccio io, ed è veramente, non è facile, ve lo assicuro, non basta fare tagliuzza e colluzza, ma bisogna proprio perderci molto tempo, il girato è tanto, bisogna essere bravi a tagliare tutto il superfluo, ma nello stesso tempo a mantenere un ritmo, a mantenere un significato, un senso delle cose, e loro, o lei, sono bravissimi, davvero, il risultato, quando io ho visto i video per la prima volta, ero emozionatissima, e sono rimasta davvero colpita da quanto sono stati bravi a montarli. Ed ecco, quindi, io vi ringrazio, vi mando un bacio infinito, e quindi vi auguro a tutti quelli che stanno partecipando quest'anno per il nuovo concorso di tutorial, di divertirsi, tanto quanto mi sono divertita io, e di avere un'esperienza bella, meravigliosa, come quella che ho avuto io, ma sono sicura di sì, perché comunque davvero, quelli di La3, ragazzi, sono davvero bravi, sono davvero bravi. Quindi, nulla, io spero che prossimamente seguirete, appunto, le puntate qui sul mio canale, se ancora non le avete viste. Se le avete viste, lasciatemi i commenti qua sotto, perché i vostri feedback sono veramente importantissimi per me, per migliorare, per capire, per capire, insomma, dove sto andando, se quello che sto facendo va bene. E ho avuto dei buoni feedback da Facebook, chi ha guardato le puntate mi ha scritto in Facebook, mi ha scritto che sono stata brava, insomma, che sono state delle belle puntate, anche utili, quindi sono felice di questo, però, appunto, vorrei il vostro riscontro anche qua sotto. Io sapete che adoro i vostri commenti, che quando YouTube mi notifica i vostri commenti rispondo sempre. E, quindi, commentate, se questo video vi piace, lasciate il pollice in su, ovviamente, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale. È facile, basta cliccare qua sotto, c'è il pulsantino che ha scritto iscriviti. E, soprattutto, vi invito a seguirmi in Facebook, perché lì mi trovate sempre. Cioè, io in Facebook ci sono sempre, dalla mattina alla sera, e molto spesso, quando posso, rispondo in tempo reale. Quindi, se avete domande, dubbi, volete solo passare a farmi un saluto, seguitemi su Facebook, vi metto il link qua sotto. Dopodiché, ragazzi, niente, siamo pronti a ripartire. Vi ringrazio per avermi aspettata, come sempre. E vi mando un grandissimo, grandissimo, grandissimo abbraccio e bacione. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!